Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, Giulio Terzi di Sant'Agata di Fratelli Italia, per parlare di Iran e del pericolo che questo Paese rappresenta per Israele. Lo facciamo alla vigilia della giornata della memoria, mentre in Parlamento si sta preparando un provvedimento per sensibilizzare l'opinione pubblica italiana anche attraverso il sostegno alla conoscenza di iniziative che impediscano che nel nostro Paese si diffonda l'antisemitismo. Allora, che cosa sta succedendo in questo Paese e soprattutto che cosa volete fare affinché non si diffonda una mentalità contro Israele di cui l'Iran è la principale sostenitrice? La ringrazio molto per questa domanda e collegandoci anche a conversazioni che abbiamo avuto proprio qui con lei a Radio Radicale, saluto cordialmente tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, sulla questione del ruolo dell'attività globale ormai svolta dall'Iran, non soltanto dei rischi per la sicurezza ma di un rischio veramente grave che esiste nella politica, nel porsi dell'Iran nella sua regione, nei confronti dell'Unione Europea e nel mondo in genere, la macchina di odio, di denigrazione e di fanatismo che l'Iran cerca di innescare, continua ad innescare contro Israele e contro le comunità ebraiche e in genere la religione, l'esistenza, l'essenza stessa dell'ebraismo nel mondo. L'Iran è diventato un protagonista attraverso il suo presidente che in passato, negli anni prima di diventare presidente, è stato a capo di una fondazione molto attiva nel promuovere addirittura i protocolli dei savi di Sion, il testo per eccellenza di propaganda antisemita, l'Iran è diventato, continua ad essere sempre di più, un protagonista molto importante nella diffusione di una propaganda all'odio su questi temi, purtroppo, e nell'attivare anche su internet, sui social media, tutta quella rete vasta di boycott, divest and sanction, cioè boycottare, disinvestire e sanzionare qualsiasi prodotto israeliano, qualsiasi attività economica o servizio proveniente da Israele. Ecco, questi sono solo alcune punte di un iceberg molto profondo, appunto, che trae origine dall'attività dell'Iran in Europa, in Medio Oriente, ma anche nel mondo, anche in Sud America e in altri luoghi. Quindi, cito appunto questo riferimento geopolitico, particolarmente importante, dato che si tratta di un paese coinvolto persino insieme alla Russia nella guerra in Ucraina, fornendo droni e capacità missilistiche alla Russia, ecco, è un riferimento che dobbiamo guardare anche in Italia con grande attenzione, perché si tratta di un paese, ne esistono altri, ma su questo specifico aspetto dell'antisemitismo, l'Iran è sicuramente un protagonista negativo per la diffusione della disinformazione, dell'odio e soprattutto della disinformazione contro Israele. Ed è quindi questo uno dei motivi, certamente non il solo, di un impegno molto forte di Fratelli d'Italia, anche governi passati si sono dedicati a questi aspetti di lotta all'antisemitismo. Ma Fratelli d'Italia in questa legislatura inizia con la presentazione di un disegno di legge molto importante, firmato da autorevoli esponenti della mia forza politica, che propone di rilanciare e ampliare, rendere più cogente e più diretto il percorso di formazione di formatori, cioè di preparazione di insegnanti nelle scuole medie e superiori, alla formazione, alla educazione, all'istruzione degli studenti sulla Shoah, cioè sulla Shoah, sul più terribile episodio, più terribile genocidio nato da secoli appunto di antisemitismo e concentratosi negli anni spaventosi, mostruosi del nazismo, la Shoah come elemento assolutamente centrale nell'educazione, non soltanto della storia, ma anche nella formazione morale, nella formazione della coscienza, della volontà di impegnarsi in quella coscienza profonda che ogni individuo deve avere nel rispetto del diritto, della dignità umana, del diritto umano, del prossimo e dell'esistenza e del valore, del grande valore del popolo di Israele. Una religione, una cultura, una realtà che ha costruito i valori fondamentali dell'Europa insieme a quelli cristiani e insieme a quelli classici. Quindi questa iniziativa di Fratelli d'Italia è di grande spessore perché dà alcuni, un certo sostegno concreto, anche finanziario, sia pure nelle possibilità estremamente limitate che ci sono nel bilancio dello Stato in questo momento, ma di creare un fondo triennale per la preparazione, il progresso della conoscenza da parte dei formatori e delle modalità di diffusione di questa conoscenza, di preparazione degli studenti. Ecco, questo va visto ed è questa la considerazione che vorrei fare parlando appunto fra poco più di due settimane, avremo il 27 gennaio, il giorno della memoria, che è per legge stabilito da molto tempo e che è stata sempre la cornice per la promozione, sempre il miglioramento di attività destinate alla conoscenza da parte del grande pubblico e da parte soprattutto dei più giovani, nelle scuole, nelle università, nelle attività culturali, nell'informazione pubblica, quindi la capacità di apprendere esattamente che cosa è questo problema dell'antisemitismo e di creare una partecipazione corale nella lotta all'antisemitismo. Ma perché è molto importante? Credo ricordare anche che il Parlamento europeo e i governi italiani sino alla nuova legislatura nella quale si è insediato il governo di centrodestra hanno già cominciato ad applicare su piano nazionale e su piano europeo gli stati membri, hanno già cominciato ad applicare alcune direttive molto importanti che definiscono concettualmente e anche giuridicamente che cos'è l'antisemitismo e lo definiscono in termini generali ma anche su alcune manifestazioni specifiche come è ad esempio la demonizzazione dello Stato di Israele. Ecco, su questi punti, su questi punti, queste guideline messe e definite dalla International Holocaust Remembrance Alliance cioè l'alleanza dei paesi che vogliono ricordare l'olocausto a livello internazionale queste direttive precisano appunto le modalità alle quali si manifestano le forme di antisemitismo e che quindi devono essere combattute. Ma vorrei sottolineare come una di queste è appunto l'odio che viene propalato nei confronti dello Stato di Israele e degli israeliani ed è quindi su questo che credo ci siano ancora dei passi avanti da fare dei passi avanti molto concreti non soltanto sul piano della definizione ma anche della consapevolezza che sì se è vero che è assolutamente legittimo criticare un governo straniero per le cose che non rientrano nelle categorie concettuali o politiche di chi manifesta delle critiche di comportamento è ben diverso quando queste critiche prendono la forma, l'insistenza e la caratterizzazione di essere fatte perché mosse motivate da un evidente odio razzista, indegno, vergognoso contro un ebreo o qualcuno che pratica la religione ebraica o le istituzioni di queste persone. Lei pensa che debbano essere prese delle sanzioni per quello che sta succedendo in Iran simili a quelle uguali a quelle che sono in corso nei confronti della Russia? Ma l'Iran sta manifestando la faccia che ha, caduta qualsiasi maschera, qualsiasi mistificazione per anni ci sono stati coloro che hanno finto di credere che in Iran c'erano delle possibilità di riforme di moderati piuttosto che di conservatori ma è sempre la stessa gente come dire i talibani buoni i talibani cattivi abbiamo visto che non è così è smentita dai fatti dalle cose di ogni giorno anzi il regime essendo messo nell'angolo dalle manifestazioni oramai diffuse non arrestabili neanche con un sistema oppressivo così terribilmente sanguinario possono essere minimamente arrestate queste sollevazioni di popolo che ora durano da 110 giorni credo che è evidente che bisogna la comunità internazionale deve muoversi in avanti cambiare completamente linea politica e sanzionare il corpo della guardia rivoluzionaria iraniana i cosiddetti pazdaran devono essere messi sulla lista delle organizzazioni terroristiche i pazdaran sono terroristi un'organizzazione terroristica comandata dal regime l'ultima domanda si è spiegato perché adesso solo adesso c'è stato questo risveglio di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'iran allora lei ricordava sono 110 giorni insomma un tempo consistente prima di quelle che vengono sono state definite come le esecuzioni dei manifestanti insomma abbiamo visto che la polizia sparava sui manifestanti allora perché anche il papa soltanto oggi ha detto la prima cosa sull'iran e riesce a spiegarsi come mai si è dormito un po' su questo se si è dato una ma purtroppo l'iran l'iran è uno dei peggiori violatori di qualsiasi principio di dignità umana libertà stato di diritto legalità è un regime qualcuno lo chiama teocratico nazista ma basterebbe sia il teocratico fondamentalista c'era una consapevolezza comune che si doveva debellare lo stato islamico lo stato islamico sunnita l'isis ma l'iran è uno stato islamico terrorista scita non c'è nessuna differenza nelle modalità che le due i due i due rami di questo orrendo albero praticano è uno stato fondamentalista che ricorre al terrorismo come arma di politica estera come modalità di politica estera ricorre alle stragi interne alle torture alle impiccagioni quotidiane se basta semplicemente entrare in strada vedersi con altri dimostranti o con altre persone e per rischiare la pena di morte anzi per essere sicuri che questo avvenga è un paese che nel 1988 si è reso colpevole dello sterminio di 30.000 prigionieri politici appartenenti ai mojaedin del popolo del consiglio nazionale della resistenza iraniana quindi un paese che ha una sua storia si è voluto girare la faccia girare lo sguardo dall'altra parte come purtroppo nella storia umana nella storia del novecento e anche di questo inizio anni anni duemila è avvenuto e sta avvenendo e adesso chiaramente ci sono dei livelli di sopportazione che la comunità internazionale raggiunge nella quale c'è la reazione ma vorrei dire però che Fratelli d'Italia il governo di centrodestra si è subito espresso attraverso le sue massime autorità il presidente del consiglio il ministro degli esteri molti parlamentari appartenenti al mondo della maggioranza come anche moltissime personalità dell'opposizione si sono espressi contro l'ignobile massacro del proprio popolo che il presidente Raisi la Yatola Kameini stanno stanno perseguendo e sta avvenendo ma è chiaro che non ci si può non si può rimanere con le mani in mano non basta una denuncia pubblica a questo punto non bastano più le misure sanzionatorie prese dall'Unione Europea si deve passare al di là i padroni del gioco sono i Pasdaran sono i guardiani della rivoluzione che ho citato prima una forza militare enorme affiancata dai proxies si chiamano basigi quegli agenti che corrono in motocicletta sparando come nel Far West contro innocenti giovani che cercano di manifestare il loro dissenso ci sono dei proxies all'estero come gli Hezbollah Hamas e organizzazioni militari che si muovono in modo coordinato e con una strategia ben precisa essenzialmente contro lo Stato di Israele e contro in ogni caso le realtà occidentali e c'è una rete anche di terroristi europea come è stata dimostrata da un famoso processo ad Anversa dove è stato condannato a vent'anni insieme ai suoi due complici un terrorista che guarda caso era un diplomatico accreditato all'ambasciata di Vienna e che aveva girato mezza Europa soltanto in due anni per mantenere creare e rafforzare una rete di terroristi iraniani mai realmente sanzionata dai paesi europei e questo dobbiamo veramente rivolgere un appello a tutti gli stati membri dell'Unione Europea ad affrontare questo problema serio perché è un problema anche e soprattutto di odio di manifestazioni di odio nei confronti dei nostri valori ma soprattutto indirizzato questo odio a Israele e al mondo ebraico Bene, la ringrazio ringrazio il Presidente della Commissione delle Politiche dell'Unione Europea Giulio Terzi di Sant'Aga dei Fratelli d'Italia che ci ha dato conto anche di questa iniziativa importante del Parlamento contro l'antisemitismo e per difendere Israele Grazie Grazie a lei Grazie a lei